Grande successo anche quest'anno per il presepe vivente di Campagnano, nonostante l'evento sia stato anticipato un giorno prima rispetto a quanto previsto dal programma. La manifestazione infatti si sarebbe dovuta tenere domenica, ma poi, visto il bollettino meteo che prevedeva pioggia, il Comitato ha deciso di spostarla a sabato. E quindi, come da tradizione, il piccolo borgo collinare ha fatto un tuffo nel passato. Tutti gli angoli più caratteristici sono stati trasformati in botteghe artigiane dove hanno trovato posto figuranti in abiti d'epoca intenti a lavori manuali. C'erano i fabbri, la rutino, il ceramista, le filatrici e le ricamatrici e tanti altri mestieri che oggi nessuno fa più. Le cantine più antiche e grandi sono diventate lo spazio dove si è mostrato ai visitatori come si viveva un tempo in campagna. Arredi semplici e mancanza di comfort, ma tanta poesia. Inoltre, Campagnano, per un pomeriggio, è diventato un vero e proprio borgo dei sapori, dove gli aromi delle più svariate petanze hanno invitato tutti a degustare le ricette tipiche della cucina ischitana, come le torte fatte in casa e l'intramontabile salsiccia alla brace accompagnata dal pane appena sfornato. Poi, nella cantina settecentesca, proprio sotto la collina della stella cometa, il quadro vivente della Natività. Maria, Giuseppe e il Gesù Bambino, nel buio della grotta, hanno atteso pazienti visitatori, nonostante il freddo pungente della sera di dicembre. Qui, nella campagna, lontano dai clamori della piazza e delle botteghe, ha battuto il cuore religioso dell'evento, il mistero e la poesia del Natale.